L'Ora Legale, film che in questo periodo è stato di molto successo, però mi domando sempre quante di queste persone che hanno visto questo film realmente hanno voglia di cambiare, hanno voglia della legalità? Secondo me come dimostra il film in Italia diciamo tanto ma poi dopo assolutamente non cambiamo niente e cerchiamo tutto di infangare, guarda il caso Raggi del sindaco di Roma, cerchiamo di farlo rimettere a forza. Il film vale la pena, per me è un voto 10 sia come realizzato di sceneggiatura che di ripresi. Per il resto veramente la volontà degli italiani dove sta? La volontà anche di usare il cervello perché anche il popolo italiano tante volte non vuole usare il cervello.